Sia chiaro che noi lottiamo fino alla morte per non permettere che il Senato restituisca a questo soggetto impresentabile 7.000 euro di vitalizio. Ma sia altrettanto chiaro che voi dovete sapere contro chi dobbiamo lottare, contro questi signori qua che ieri hanno votato la riassegnazione del vitalizio al soggetto che vi abbiamo fatto vedere. Sono tre, questi tre senatori perché questi sono supplenti e sono uno di Forza Italia Caliendo e due della Lega Pilon e la ex dei 5 Stelle fuoriuscita che invece che andarsene a casa perché è stata eletta in Senato con i 5 Stelle all'urlo giusto, no ai sprechi, no ai vitalizi e privilegi della casta passa alla Lega e dice sì vitalizi e sì privilegi della casta. Concludo dicendovi state attenti delle persone a cui date la fiducia e soprattutto il voto perché questa persona qua poco tempo fa diceva vergogna per chi dà i vitalizi agli ex senatori. Leggete un po' qua, lo leggo piano. La Lega si è opposta oggi e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi. Salvini, i due che hanno votato su tre, il sì al vitalizio a Formigoni, sono tuoi. Vergognati, vergognati in un periodo come questo dove la gente fa fatica ad andare avanti a causa delle chiusure per il covid. Vergognati.